Pippo del Bono a Firenze, da Cannes a Firenze va bene, dopo mi dici quanto è bella Firenze, siamo a Franz Odeon ok? Siamo al famoso cinema Odeon dove si sta svolgendo il festival Franz Odeon con il produttore di un film bellissimo che avevamo già visto a Cannes di cui voi avete visto sia la regista che gli interpreti nell'intervista che abbiamo fatto a Cannes e siamo con Jean-Louis Lévy che è il produttore di questo film appunto splendido. L'emozione che le ha suscitato, le emozioni che avevate, quando avevate deciso di le produire? Beh, c'è soprattutto la personnalità di Yolande Moreau che è una personnalità rara, c'è un'attrice d'abord di grande qualità. C'è suo secondo film in quanto metteur in scena e io credo che, outre tutte le emozioni che ne procure il film, on può considerare che è un grande cinese che ha permesso questo film di fare, con un Pippo del Bono che è assolutamente allucinante, io credo, di sincerità, di presenza e di emozione. E' davvero straordinario, non ho mai visto un Pippo giocare come questo, mai, mai, mai. Il ha avuto una confiante in Yolande, perché, come ha detto, c'è qualcuno che ha ascoltato e che lui ha deciso di ascoltare. Non c'è anche un'ottima che questo film sia fatto per una donna, perché le donne, io devo dire che, anche se io amo le donne e che sono un'uomo che può essere considerato come macho, ma non c'è nulla, io credo che le donne hanno questa dimensione umana, humanità, che sono le sole capace di mostrare al cinema, soprattutto in questo rapporto amorevole tra un uomo e una donna, un rapporto amorevole molto incerto, perché in più, è lei che miene l'amore e non non lui. C'è questo. Grazie mille, signor. E io vi voglio tutto il migliore per molti film a venire. Grazie a voi. 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 A voi.